Niascuna può fare la propria parte, mi raccomando, conto su di voi. Buongiorno a tutti. Sono un sindaco di Tamputo e vi ringrazio per quello che state magenti. Però possiamo fare meglio, dobbiamo fare di più, dobbiamo concentrarsi e stare in casa per limitare al massimo il contatto. Se ci sono persone sole o che hanno bisogno di aiuto, possono chiamare il numero amico della città di Collegno. Prendete carta e penna, segnatevi questo numero, se avete bisogno di qualcosa. 0, 11, 40, 15, 800. 0, 0, 11, 40, 15, 800. Se vi serve qualcosa, potete fare riferimento a questo numero. Se conoscete qualche anziano che ha bisogno, potete voi chiedere e soddisfare le sue esigenze, magari d'acqua piuttosto che cose pesanti. Diamo di una mano, tutti insieme, lasceremo in fretta possibile questo brutto momento, ok? E' un sacrificio, ma ne va della nostra salute, ed è la salute di tutti noi. Andrà tutto bene, ciao! Andrà tutto bene, ciao!